Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati su Linfury Universe e benvenuti per un nuovo vostro caffè da passare insieme. Di tutte le possibili scoperte in arrivo nel mondo dell'astronomia, una di quelle che mi gasa di più in assoluto è l'idea che là fuori ci siano miliardi e miliardi di esulune, cioè lune che si trovano intorno a pianeti, intorno ad altre stelle, e non ne abbiamo mai trovata nemmeno una. Abbiamo indizi qua e là della possibile presenza, forse, di qualcuna, ma non ne abbiamo mai trovata una. E mi gasa così tanto, sono così felice dell'idea di esulune, perché nel sistema solare, per quanto siano vari e belli tutti i pianeti, in realtà nelle lune si vede molto di più la ricchezza di quello che un po' di geologia e climatologia possono fare. Pensate soltanto a quello che ci troviamo intorno, per esempio la luna a gigantesche pianure di mari di lava che si sono solidificati così e le vedete come quelle macchie scure che possiamo vedere anche a occhio nudo, ma nel sistema solare esterno questa cosa è stata portata all'eccesso con Io, che è una luna di Giove con oltre 400 vulcani attivi, che molto probabilmente sotto la superficie ha un vasto oceano di zolfo liquido. Oppure se ce ne andiamo ancora un po' più lontano troviamo lune come Tritone di Nettuno, che ha geyser giganteschi di azoto fluido che vengono fuori da sotto la superficie. Sotto ancora alla superficie c'è un vasto oceano di acqua liquida. Questa cosa dell'acqua liquida è piuttosto comune negli oceani, nei mondi ghiacciati esterni, perché molte delle lune sono fatte di ghiaccio. Però troviamo anche lune che sembrano spugne, lune che sono per metà bianche e metà scure, non ancora sappiamo con certezza come mai. Sappiamo di lune che sono solo schegge di nuclei di lune più grandi distrutte, o in alcuni casi anche di pianeti distrutti. Insomma, basta guardarsi un po' intorno e vedere una varietà incredibile. Anche di colori, di paesaggi. C'è Titano, per esempio, che è un vero e proprio mondo a sé, come un pianeta, quasi fosse una terra primordiale, con una vasta atmosfera di azoto e sulla superficie laghi di metano liquido. Quindi là fuori chissà quante meraviglie ci aspettano. Se solo potessimo trovarle. Però per adesso possiamo solo fare piccoli passi in avanti per riuscire a trovare gli indizi. E quello di cui vi parlo oggi è forse uno degli indizi migliori che abbiamo trovato per ora della presenza di un'esoluna. E non è un'esoluna qualsiasi perché ci è andata benissimo, perché già dall'inizio si parte con una luna esplosiva. Non a caso. Piuttosto esplosiva. Poi vedete. Facciamo un passo indietro prima e parliamo della scoperta dei primi esopianeti. Quando le abbiamo trovate all'inizio erano piuttosto strani rispetto a quelli a cui siamo abituati ora. Abbiamo trovato quelli più facili da vedere. Quando stavamo guardando altre stelle per cercare piccoli indizi della presenza di pianeti, volevamo vedere se la luce della stella cambia mentre la stella viene attirata dalla gravità dell'altro pianeta oppure se diminuisce mentre il pianeta passa tra noi e la stella. E se cerchi con questi modi, con questi tipi di tecniche, troverai i pianeti più grossi, no? Quelli che sono così grandi e massicci da tirare verso di loro facilmente le proprie stelle oppure che sono abbastanza grandi da coprire molta della luce o abbastanza comunque per gli strumenti che avevamo. Quindi per questo i primi mondi che abbiamo trovato erano molto estremi. Pianeti molto più grandi di Giove, molto più massicci anche, che orbitavano intorno alla propria stella molto più vicino rispetto a Mercurio, per esempio, nel Sistema Solare. Quindi qualcosa che non sembiava niente di quello che abbiamo mai visto. E anche se là fuori di sicuro, ora sappiamo, abbiamo più di 4.000 esempi di asopianeti, ma ci sono pianeti anche molto simili alla Terra, molto più, tra virgolette, normali, e quindi i primi che saltano all'occhio sono quelli più facili da vedere e probabilmente succederà anche così con le lune. Quindi le prime esolune che troveremo mi aspetto che siano piuttosto estreme perché saranno quelle più facili da vedere. E come fai a trovare indizi della presenza di uno di questi oggetti da distanze di anni luce? Beh, devi cercare quello che si lasciano dietro perché la loro luce probabilmente è molto, molto bassa, troppo bassa per essere vista anche con la prossima generazione di telescopi. Però, se abbiamo una luna molto attiva, come alcune di quelle di cui vi ho parlato prima nel Sistema Solare, rilascia molto della sua massa intorno e crea una nube o un anello intorno al proprio pianeta. Pensate ad Encelado, che intorno a Saturno ha creato un intero anello fatto di resti dai suoi geyser, dal poro sud, dal proveniente dall'oceano. Oppure, intorno a Giove, Io ha fatto una cosa simile con un toro gigante, quindi con un anello vastissimo, ricchissimo di sodio, che possiamo osservare da qui, dalla Terra. Tutto quel sodio proviene dai vulcani, da tutta l'attività vulcanica sulla superficie e poi viene intrappolato in questi anelli dall'attività del campo magnetico. Quindi queste particelle partono tutte felici dai vulcani e poi, prima di potersene andare felici in giro per l'ambiente intorno a Giove, vengono intrappolate nelle linee del campo magnetico perché loro sono cariche e finiscono trascinate intorno e rimangono in questa zona prima di colpire o altre lune o finire nelle nuvole di Giove stesso. A volte finiscono sulla superficie di Europa, un'altra delle lune, e infatti c'è un po' di contaminazione tra due, ma questa è un'altra storia interessante per un'altra volta. Per quello che ci interessa a noi, quello che stiamo cercando là fuori è una cosa simile a Io, ma su steroidi. Ed è qui che la storia diventa interessante, perché finora non siamo riusciti a trovare molto. Abbiamo fatto un po' di lavoro teorico per vedere se è possibile almeno trovare questi oggetti, ma ora siamo in grado di vedere alcuni di questi indizi, perché se tu vuoi vedere il sodio, per esempio, intorno a Giove, provenienti da una luna, devi riuscire a distinguere quella che è la luce riflessa da Giove rispetto a quello che la circonda. E hai bisogno di strumenti molto, molto precisi. E se vi seguite da un po' sul canale, ormai saprete che mi entusiasmo un sacco per le scoperte riguardo ai suoi pianeti, e in particolare vi ho raccontato spesso di come le atmosfere sono ora possibili da indagare. Anche se poco, ma finalmente possiamo dire qualcosa sulla composizione delle atmosfere. E se vi ricordate, uno dei tipi di pianeti di cui ho parlato di più sono i Gioviani Caldi, cioè pianeti grandi o quanto o più di Giove, che si trovano appiccicate alla propria stella. E quindi cosa è successo? Ultimamente siamo andati alla ricerca di Gioviani Caldi per vedere se, quando analizziamo la luce riflessa o la composizione di questa atmosfera, riusciamo a vedere indizi intorno all'atmosfera di qualcosa come sodio che potrebbe provenire da una delle lune. Ma andiamo con ordine, anche perché, come sempre, si partono degli esopianeti, poi dopo apro mille parentesi e non finiamo più. Quindi, a questo arriveremo dopo, ma premessa, nel 2006, Bob Johnson e Patrick Huggins, che sono due grandi ricercatori che si occupano di studi su esopianeti nei Stati Uniti, hanno fatto un primo studio su come potrebbe esistere un mondo del genere, come potresti trovarlo con una mappatura del sodio presente intorno a un gigante gasoso. Loro sono stati i primi a gettare le basi teoriche. Dopo, nel 2009, altri ricercatori dell'Università della Virginia hanno fatto un calcolo sulla stabilità orbitale di questi oggetti, perché se tu prendi un pianeta con delle lune e lo piazzi accanto a una stella, sentirà una forza di marea non indifferente. La luna non sente soltanto un'influenza gravitazionale della Terra, per esempio, ma anche del Sole. Il sistema di influenze mareali è a tre, non a due. Infatti, parte dell'innalzamento durante le maree qui sulla Terra non è dovuto per forza alla luna, ma al Sole. Quindi, anche se la luna non ci fosse, comunque ci sarebbero maree sulla Terra dovute all'influenza solare. La stessa cosa succede qui, soltanto che, essendo così vicino questo mondo alla propria stella, le forze di marea sono molto più alte e potrebbero completamente destabilizzare un'orbita di una luna intorno. Quindi, quello che hanno fatto è vedere quali sono le regioni limite intorno a cui puoi giocare, dove dovresti trovare una luna se ci fosse. Per esempio, abbiamo scoperto che una luna grande, più o meno come io, o comunque grande quanto un pianeta roccioso, potrebbe ancora resistere anche appiccicata la propria stella, tra virgolette appiccicata ovviamente, fin tanto che non si è formata lì, perché ovviamente non c'è modo di formare così vicino, ma se arrivi piano piano e se non arrivi in maniera troppo brusca, potresti trovare ancora un modo per mantenere le lune, specialmente se sono relativamente vicine. Ovviamente, questa è da una parte un'ottima notizia, vuol dire che queste lune potrebbero esserci, dall'altra parte è un po' una sfortuna perché significa che le lune sono stabili se sono vicine al pianeta e se sono vicine sono più difficili da distinguere dalla luce del pianeta, però vabbè, non si può avere tutto nella vita, ma è una gioia, però qualche volta si aspetta proprio senza tempo qualcosa sì. E tutto questo lavoro teorico è stato ripreso poi in mano da un giovane meraviglioso scienziato che credo sia originario da Nidia Ocra comunque lavora in Inghilterra e nei Stati Uniti e lui si occupa tantissimo di Esolune per questo lo adoro e si chiama Apuravikram Oza e lavora ora con Bob Johnson, quel Bob Johnson del 2006 che ha iniziato tutto questo percorso e hanno pubblicato insieme sull'Astrophysical Journal che è questo grande giornale di pubblicazioni scientifiche un'indagine su diversi candidati dove potremmo trovare Esolune di tipo superio uno dei migliori candidati è Wasp 49b si tratta di un pianeta che si trova intorno ad una stella di classe G quindi un pochino più grande del Sole ha 555 anni luce da noi e si trova in un'orbita che è praticamente compie un giro intorno alla stella ogni tre giorni quindi una piccolissima orbita ed è abbastanza vicino da essere molto caldo così caldo che possiamo vedere la luce fino a qui quindi siamo abbastanza fortunati da vedere la luce direttamente dal pianeta questa è una fortuna perché puoi vedere cosa c'è intorno e infatti hanno trovato tracce di sodio esattamente come previsto ora arriva la parte veramente figa e fin qui tutto normale sodio era già stato visto ma l'abbiamo trovato a una volta e mezzo il raggio del pianeta stesso di distanza è troppo in alto per essere legato o proveniente dall'atmosfera quindi non proviene dal pianeta stesso quindi a meno che non sia un errore grossolano da qualche parte o un falso allarme probabilmente viene da un'altra fonte che si trova a una volta e mezzo il raggio del pianeta che guarda caso quando guardi il lavoro teorico è più o meno la zona massima dove potresti trovare ancora una luna stabile quindi significa che là fuori potrebbe davvero esserci intorno a WASP 49b una luna con vulcani che rilascia enormi quantità di materia e noi vediamo l'impronta di sodio intorno ora all'inizio non vi dicevo tanti vulcani vi dicevo esplosivo questo perché questa luna insieme al suo pianeta si trovano così vicino alla propria stella che la temperatura sarebbe di oltre 2000 oltre 2000 gradi cioè fondamentalmente quindi così caldo che non solo sarebbe ai limiti di praticamente sarebbe una palla di lava fondamentalmente in base alla composizione ovviamente dipende da che cosa di cosa è fatta la propria costa però potrebbe essere che quello che vediamo non è la luna o materiale rilasciato dalla luna ma ormai la luna non c'è più forse è stata fatta a pezzi dalle forze di marea e ora noi vediamo le tracce dei resti che orbitano ancora intorno al pianeta wow se c'è però se la luna è ancora lì certo che sfortuna sarebbe trovare i primi indizi di un'esoluna ed è andata a pezzi i pianeti prima o poi quando quando leggerete là fuori la notizia che hanno scoperto la prima esoluna sappiate che io sto da qualche parte saltando su un divano per ore dalla gioia comunque per adesso sappiamo che ci sono cinque candidati simili e che la possibilità che sia un errore per tutti e cinque è piuttosto bassa quindi questo è un ottimo un ottimo indizio sappiamo anche che nel caso di quest'orbita dovrebbe avere almeno cinque volte la forza di marea che subisce io intorno a giove per cui se facciamo delle simulazioni su come si comporta io insieme a giove potremmo trovare dei indizi migliori su come distinguerle come vedere se se puoi distinguere più facilmente tra l'impronta della luna e quella del pianeta quindi per adesso è vero che siamo piuttosto sicuri ma non abbastanza da dirlo con certezza quindi è ancora un po' un indizio incerto se riusciamo a diventare più bravi studiando io nel sistema solare potremmo diventare molto più bravi a distinguerlo anche in altri sistemi quindi ecco lo so che non è tanto ma da fuori sono sicuro che ci siano abbastanza lune che prima o poi le troveremo per adesso devo rendermi felice con questo quindi mi faccio felice con poco ora la cosa che mi entusiasma anche tanto è quanto in realtà stiamo spingendo al limite i nostri strumenti e la cosa più bella che abbiamo non è tanto un telescopio fighissimo o un progetto avanzatissimo anche se sono veramente tutti belli ma è appunto la volontà il lavoro e l'ingegno di tanti nuovi studenti della generazione di nuove astronomi che si stanno affacciando ora a questi strumenti e sono così entusiasti e carichi e vogliosi di fare nuove scoperte che non solo stanno prendendo in carico questi strumenti ma li stanno spingendo oltre i limiti per cui erano stati progettati e questo mi emoziona sempre vedere quanto possiamo fare incredibile quando lavoriamo insieme anche perché molti di questi team sono internazionali arrivano da tutti i paesi del mondo quindi vai così prima o poi là fuori scopriremo non solo una luna ma immagino cataloghi di migliaia e migliaia di lune e quindi una versione più futuristica di me magari vi racconterà di quali sono le top 10 lune più strane che abbiamo scoperto fuori dal sistema solare fino ad allora voi continuate ad essere meravigliosi un abbraccio come sempre e ci vediamo presto per un altro nostro caffè eccoci nella handcard i più attenti tra di voi avranno già notato il motivo per cui ho messo qui un personaggio di Star Wars visto che sto parlando di un mondo che è coperto da lava è un mondo infernale eh? potrebbe essere quello ci manca solo un castello e un po' di compattimenti con Spadalacer e praticamente siamo alla fine dell'episodio 3 di Star Wars quindi per chi non sa di cosa sto parlando non vi preoccupate non vi perdete niente guardate Star Trek meglio disse lui con tutte le cose di Star Wars vabbè non sono molto credibile comunque è bello ritrovare analoghi di cose che ci siamo immaginate nella fantascienza nel mondo reale questa cosa è sempre divertente così come da fuori abbiamo trovato pianeti che abbiamo chiamato Poltergeist perché sparivano oppure pianeti che abbiamo chiamato oh per adesso è una proposta spero che sia ufficiale quanto prima Gallifrey per chi guarda Doctor Who quindi trovate altri video su Yeso Peneti come sempre in descrizione dove trovate anche il link a Patreon dove potete contribuire a mantenere vivo questo canale e farmi continuare a parlare di cose di astronomia e vi ricordo anche che se volete una patch di community di Link for Union per attaccarvi su zaini spalle cose per mostrare a tutti che siete parte della community così quando vi incontrate vi riconoscete e perché in realtà per le patch cambieranno di anno in anno per cui avete solo fino alla fine dell'anno per pregarvi questa perché edizione è limitata li trovate sotto potete comprarle su Patreon e presto su Patreon arriverà anche questa ma con calma poi arriviamo quindi se volete rimanere aggiornati sotto in descrizione trovate anche Patreon un abbraccio di nuovo ciao ciao